Senti cittadini europei Vuol dire che è uno sportello aperto per dare informazioni ai ragazzi sul tema europrogettazione d'Europa e poi è uno sportello che parte e va per esempio dentro le scuole con dei laboratori o informativi oppure dei workshop in cui insieme ai ragazzi e gli studenti si progettano interventi appunto di carattere europeo, progetti europei. Da idea nasce idea e di esperienze insomma sul territorio di Rivoli ce n'è stata appunto tanta. Bisogna iniziare a sensibilizzare soprattutto i giovani nell'essere più vicini all'Europa così come stiamo anche facendo nell'ambito di settori ambientali di far sì che i giovani si avvicinano sempre di più alle istituzioni. L'appello che faccio a tutti gli istituti scolastici è di continuare e di dare l'opportunità ai nostri giovani di riuscire a capire che cosa sono i bandi europei, quali progetti di portare avanti. Se avete l'opportunità di fare un'esperienza in Europa è un'esperienza bellissima di formazione, di crescita, di imparare anche le lingue e capire anche di come formarsi per far sì che tramite questi progetti si riescano poi a portare a casa grandi risultati. L'impatto dell'Unione Europea su Rivoli è stato frutto anche di una serie di progettazioni e di attività portate avanti sul territorio con alcuni bandi internazionali, sia di scambio di accoglienza, soprattutto anche il programma di Erasmus che è stato molto importante ed è stato molto apprezzato dai giovani. La città di Rivoli da tantissimo tempo è promotrice di progetti europei per quello che mi riguarda con l'ufficio giovani e con l'ufficio gemellaggi, quindi Europa per i cittadini e Youth in Action e poi Erasmus Plus. Abbiamo partecipato e organizzato a Festa dell'Europa il 9 maggio, abbiamo organizzato scambi internazionali in invio, in accoglienza e la cosa fondamentale è l'intervento che questo sportello ha nelle scuole, perché partiamo dai ragazzi, partiamo dalla sensibilizzazione dei ragazzi e ovviamente i ragazzi che i ragazzi riportano nelle loro famiglie. Cosa mi aspetto dell'Europa? Una maggiore sensibilità rivolta innanzitutto ai territori, ma ritengo soprattutto importante e fondamentale dare un segnale di crescita ai nostri giovani. Se lo merito, sono giovani che hanno voglia di imparare e ha voglia anche e soprattutto di guardare al di là dei confini come cosa avviene all'interno dell'Europa. L'Europa ci ricorda anche quanto è importante poter collaborare, specialmente nei territori locali, dove i giovani spesso tendono a spostarsi verso una grande città. Oggi anche come Consiglio dei Giovani di Collegno ci teniamo a ribadire l'importanza di sviluppare azioni comune e di avere iniziative che possano trovare il modo di coinvolgere i giovani. L'idea è quindi quella di creare un tavolo intercomunale per parlare di politiche giovanili, per trovare nuove azioni che possano interessare i giovani e per ricordare che l'Europa ci offre tante opportunità di apprendimento e insieme possiamo anche progettare qualcosa che possa cambiare il nostro territorio.